Ragazzi volete vincere il nuovo pass battaglia della season 7? E' molto semplice, vi basterà lasciare un bel like, iscrivervi al canale attivando la campanellina E ovviamente farlo nei prossimi 6 secondi, bella! Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Firex, oggi ragazzi andremo a vedere le posizioni nella mappa dei manufatti della settimana 4 Ovviamente i manufatti alieni Ci dirigiamo verso il primo, ci dirigiamo verso siepi d'agrifoglio ragazzuoli E ci dirigiamo alla casa principale di siepi d'agrifoglio Sarà esattamente davanti alla casa sotto qui Ragazzi passiamo al secondo, andiamo verso foresta frignante Andiamo esattamente in quella casa dove vi ho pingato Per cui diciamo la casa secondaria di foresta frignante Ci dirigiamo in quella posizione E la sua posizione sarà esattamente dentro qui E questa qui sarà la posizione del secondo manufatto Eccolo a voi Ragazzi terza posizione vicino a lazy lake Cioè lago languido Ci dirigiamo verso la posizione che vi ho appena indicato La casa sarebbe più o meno quella che ha il sotterraneo Per cui la casa blu è quella gialla Ci dirigiamo verso le case Ed esattamente dietro dove c'è il parco giochi possiamo dire Dentro la casetta si troverà il terzo manufatto Passiamo al quarto Ok ragazzi ci dirigiamo verso dirty dogs A esattamente alla fine di dirty dogs Cioè moli molesti E ragazzuoli ci dirigiamo verso la posizione che vi ho appena indicato Per cui all'ultimo angolino di moli molesti Sotto la scala per entrare nel bunker Troveremo il quarto manufatto Ok ragazzi ci dirigiamo a foschi fumaioli E andiamo verso la posizione centrale di foschi fumaioli Dove vi ho appena indicato E lì si troverà il quinto e ultimo manufatto Di questa settimana 4 di Fortnite Ragazzuoli ci dirigiamo all'ultimo manufatto Si troverà esattamente sopra il tubo Niente ragazzi se questa guida vi fosse stata utile Io vi invito a lasciare un bel like Iscrivervi al canale Attivare la campanellina su tutte le notifiche Noi ci vediamo con un prossimo video Bella raga